Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Leonardo e benvenuti su Leo Toys Oggi facciamo un nuovo episodio della vanilla Qui su Minecraft Tra poco dovrebbe arrivare Niki E... ero qui in miniera che scavavo Guardate che tunnel lungo, ho cominciato di là Ho fatto un tunnel lunghissimo E... alleluia, guardate cosa ho trovato Il diamante Oddio mio ragazzi Ho cominciato subito a riprendere perché volevo subito registrare la situazione Solo che adesso devo prendere il carbone perché mi devo fare le torce Devo prendere il carbone perché mi devo fare le torce E... siamo praticamente a secco di carbone perciò sono venuto qui In miniera Ok Ok, 36 torce dovrebbero bastare sicuramente Ok, no però Ok Adesso prendo questo carbone E vedete qua ho l'acqua Ho anche un piccone in ferro Quindi è una cosa ottima E... adesso Prendo questo carbone Poi prendo il diamante E prendo questa redstone Ok Mamma mia Cioè ma come si fa a trovare del diamante così? Io non lo so Cioè ho trovato del diamante Andando in un tunnel così È una cosa assurda Allora Ok Ce n'è anche un bel po' Quindi Almeno vedo che ce n'è un bel po' Poi non lo so Ok Vediamo se sotto ce n'è altro Sotto 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 non mi sembra Non mi sembra Sopra Devo stare attento Scavo anche intorno Perché Ho Un po' di Paura per la lava Cioè Uno ci mette anni a scavare il diamante Con No sto scherzando Non ho proprio anni però Ci metto un pochetto A scavare il diamante Con il piccone in pietra Però per i nabetti Non si fa Perché sennò poi non vi da il diamante Ok Hop Ok Uno però Assolutamente mi devo togliere Qualcosa Mi tolgo La netherrack Vabbè Cosa Mi serve il diamante Il diamante Oh Ok 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 E ok Otto Ottimissimo Ok Qua c'è Della redstone Aspettate che Metto un po' di torcia Perché sennò Sapete com'è Sponano mob Ok Ok Prendo questa redstone Adesso sto per arrivare Niki Dirò la bella notizia Ok Mamma mia Cioè Io ho questa espressione Perché ancora non ci credo Metto l'acqua Perché qua è una brutta situazione Molto brutta Ah giusto Ci metto anni Mi allontano Non sento lava Però Non ne sono sicuro Ok Qua ce n'è altra E non c'è niente qui Beh Se tipo Mi togliesi le mele Quattro mele Non lo so Faccio così Dai Me li butta Vabbè A me no Un po' di redstone Ho buttato questi qua Eh Qui ci sono per la casa Però non credo che servino Allora Vado qui Tipo Slash Set Home Miniera 2 Dai facciamo così In modo che posso fare Ok Piove Fula E Poso un po' di cose Allora Qua fuori C'era Ok Qua fuori C'è la cesta Dove ci sono i diamanti E ne abbiamo 14 Ok C'è del carbone E io Con il carbone Mi devo arrangiare Con la legna Qui Ok Qua ci ho messo Dell'oro Qua Allora Ci devo mettere L'argilla Che Ho nella nuova Casa Ragazzi Vi devo far vedere La nuova Casa Esho Home Casa Ok Ho finito Questo piano Ho preso La glowstone Ce l'ho messa Sono andato Al netter Ho preso la glowstone E ce l'ho messa Ragazzi abbiamo fatto Grandissimi progressi Io e Nikki Mamma mia Mamma mia Sono veramente Felicissimo Grandissimi progressi Peccato Ragazzi Dove Andate a vedere Solo che Ve li ho fatti Con Off camera Zombie Vedete Qui Abbiamo trovato Un tempio Del deserto Abbiamo preso Le nove TNT Che c'erano Sotto Prendo Due stack Di questi Di argilla Vabbè Bastava Che facessi Così Uno E due Però Le Ferrari Ok 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 Il problema È che sopra Non ho illuminato Vieni qua Dai Bravi Così Fate Dai Che siete Simpatici Così Ti fai ammazzare Sei più stupido Degli zombie Di Fortnite Ecco qua Allora Se spawnano Mob Significa Che c'è Un botto Di gente Cattiva Cioè Significa Che Devo fare Simmetrico Poi ho intenzione Di metterci La Glowstone Quindi Prendo un po' Di Glowstone E ce la metto Da qui Comincio Ne metto uno qua Uno Uno Due Tre Quattro E ne metto E ne metto Uno qua Uno Due Tre E quattro E ne metto Uno Qua Però Qua si saltava Due giù Queste Sì Un Due Tre E quattro Ottimo Perché Ho un altro spazio libero Dove l'ho preso Quello spazio libero Allora Uno Ah giusto Perché ho tolto I minerali Sì E Uno Due Ok Quindi Da qua Uno Due E qui Già Uno Dopo la torcia Sì Uno Dopo la torcia Qui Quindi Uno Due Qua Allora Qui Tre Quattro Qui Qui Ok Qua ci ho fatto una fontanella Che Parte dal tetto Qua ci piava ancora dentro Perché Questa fontanella Mi porta qua Però Ci piava ancora dentro Perché Perché A me notte Oddio Dormo Come fa essere notte Io no O sono io cretino Oppure Non avevo notato Che era notte Vabbè Io dormo Ciao Buonanotte È finita È finita la piaggia È finita la piaggia Che Questi Adesso 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 Dove ho scavato Qua Ok Mi ricordo Dove che li ho messi Di chi Dovrebbe arrivare Tra tre minuti Mi ricordo Adesso Come fa Mi ricordo Qua 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 Grazie.